Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Io sono un sceglie, vabbè io sono un bravo ragazzo Un incoglionito Io ci sono sempre quindi Io sono Luke invece, lui è Alessandro E quello in fondo è Carotto Tuo padre è Carottino Io e Pietro siamo il Real Madrid Tu sei quello? Blu Io sono blu Io sono padre rosso Io sono blu Lui è blu Io sono blu Io sono giallo Lui è giallo E lui è verde E iniziamo signori Facciamo gioco di squadra però Gol Oh mio Dio Madonna Non ho capito niente di sta roba Eccezionale Ronaldo RONNY RONNY No Che coglione Gioca là dentro Gol Gol Perché abbiamo John John? Vai Prima l'hai preso Gol Gol Ma il gay rege E' impersonale E' impersonale E' impersonale Ma tu stai Oh ma va tu non lo fai Non devi fare ste cose quando siamo tutti attaccati Che te il mio mica il suo Oh Ua Cazzo Guarda il computer Oh Rosso Rosso Oh Che rosso Madonna Ma che rosso Oh Che cazzo fanno Che cazzo è? Ma non altro Oh Pietro Tensito Eh dai la La teatro Due Due in una volta No 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 Bella Tero c'è la Zlatan Troppo centrale La conclusione c'è la Dove? Ehi E' sparita Vai 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 In mezzo In mezzo Apoll Scaricala Ma mio Dio Mi cazzo ho detto di scaricarla Chi è io? Chi è io? Lo cazzo E' un cazzo Goal uuuuh cazzo 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 attenzione oh mio dio dov'è? dov'è? rovescia la conibra dove cazzo è? a cazzo rovescia la devo devo fuori gioco cazzo no la era dentro partita no vediamo va che ci segna ecco la linea vediamo va che ci segna non ti dai in mezzo ancora bravo ancora ma non ti dai in mezzo oh mio dio rigore oh no cos'è? no no era vantaggio per prima era vantaggio per prima allora vantaggio allora vantaggio copacca eh ci ho detto è la palla eh oh no lì perchè indietro? aia oh non ci credo traversa piena vai rodriguez paldo picciolone era fallo quando hai su quella fascia lì non si vede un cazzo è troppo vabbè che cazzafatti va bene tira ma la perdi ma la perdi andiamo qua dai ti ho fatto uno secondo tira ah mamma mia ti fa tira tira cimione C'è loro perchè hai toccato il bambino tira ah no adoro con cato tira sapevo che va fuori non c'era nessuno vai guarda ah mi ho indietro ti ho tirato ah guaga 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 va guaga ah vai vai Ivra cazzo è sbagliato Demo non puoi sbagliare eeeh andate andate eccezionale dai dai Ivra oh cazzo perchè siamo tre con te vediamo in mezzo c'è Ivra Demo subito subito oh nooo raga raga vedi che esce esce no no tieni no tieni vai vai grandioso e c'è il novantesimo il bug del novantesimo esiste ancora lo script di merda lo script di merda lo script di merda c'erano easy buona infinita io sto giocando da solo occhio oh mio dio lo sapevo attenzio devo faccia il disco dai aspetta ho visto la fascia nooo oh si come cazzo esci come cazzo esci guarda la fascia guarda la fascia guarda la fascia guarda la fascia mezzo l'ha visto anch'io dai cosi che cazzo esci aiutami perchè c'è un tizio dentro la porta vediamo qua sulla fascia vediamo no mica ci hai fatto un pochì eh la quanto troppo piace vieni aschi bravi no io gli ho fatto un messaggio perfetto aiutare andiamo andiamo in mezzo non so dove la in mezzo butta in mezzo a caso no oh cazzo oh cazzo oh cazzo occhio mettino per lampard non c'è più che cazzo c'entra la cazzo l'ho preso nel mezzo che l'ho preso nel mezzo che l'ho preso nel mezzo madonna che cazzo ci l'hai fatto dopo dalla libro dopo dalla libro dopo dalla libro dopo dalla libro che abbi questo così mi hanno fatto fatto anche il tasto per fare press oh mio dio oh 2 1 1 2 no non no 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 oh dopo se ne hai ripornato no Se non lo vede Ma che rientra Oh mio Dio No dai Grandioso Tionfano sempre Bella ragazzi Io spero che questo video qua vi sia piaciuto Come sempre vi chiedo appunto Se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale Di lasciare un bel pollicione in sopra E vabbè se volete di condividere il video Grazie ancora della visione E al prossimo video